Come ha scelto Legge Emilia? Questo mi ha convinto a venire qui e a rimettermi in discussione in questo campionato di Lega Pro con la consapevolezza che niente è facile ma con il lavoro, con la volontà e con l'entusiasmo, ecco la parola entusiasmo è una parola che dobbiamo sempre avere nostra compagna di viaggio, possiamo invertire questa tendenza. Il messaggio è quello di starci vicini, di darci una mano durante i 90 minuti, di incoraggiare sempre la squadra come fanno e poi i processi si fanno a fine partita o addirittura i bilanci a fine campionato. Torno a ripetere, sono appena arrivato, non è che voglio scusarti ma ci vuole un po' di tempo per capire al meglio quella che è la situazione. Non abbiamo tempo quindi dobbiamo cercare di far coesistere un buon gioco a dei risultati e io e i miei collaboratori stiamo cercando di fare questo. Grazie.